Il centrodestra attacca duramente l'amministrazione sul fronte delle condizioni del manto stradale milanese. I crateri che si sono aperti sulle strade della città dopo le tante piogge dei giorni scorsi stanno mettendo a dura prova gli ammortizzatori e la pazienza degli automobilisti, che sui social hanno già riempito le proprie bacheche e quelle di Palazzo Marino di richiami, denunce e attacchi. A far da megafono alle loro istanze, nell'aula del Consiglio Comunale, sono stati i capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia che attaccano la manutenzione, a loro dire scarsa o inesistente, delle strade della città. Questo dovuto a una mancanza di manutenzione stradale che il Comune di Milano ormai non effettua da anni. Pensate che dopo le oltre 2 miliardi e mezza di multe emesse, il Comune di Milano di queste somme ne ha spese una residua parte per la manutenzione stradale. Ci chiediamo come sia possibile, dopo che vengono spesi milioni di euro, decine di milioni di euro ogni anno in manutenzione strade, che questa situazione sia talmente complessa e grave in città. Probabilmente manca una pianificazione seria. La replica del Comune è affidata direttamente al sindaco Beppe Sala, che si è detto consapevole del problema e ha chiesto un piano immediato di ripristino. È chiaro, ha spiegato il primo cittadino, che le buche si possono toppare, ma per una soluzione risolutiva bisogna rifare il manto. Sala ha anche annunciato che sabato mattina andrà in giro per la città a vedere i punti critici. Il tema, ha però sottolineato, è avere un piano, cosa che ho già chiesto e spero di avere tutto già entro sabato.